vorrei sapere chi si è permesso di venire a scaricare questo immondizio dentro il terreno nelle quote di proprietà io sono l'erede di mio padre sono venuti entrato appositamente qui pregandosene della proprietà così non va bene ecco che i mattoni io qua ogni anno vengo a prima ora ci do una ripulitina questo è un lotto di terreno della buonanima di mio padre classe 127 dei miei zii classe 1923 1925 quindi un terzo di tutti questi terreni una parte è stata vendita parte mio zio fa del mio padre e questa la rimanente proprietà della buonanime di mio padre di cui gli eredi siamo noi quattro figli io qui vengo sempre a controllare ma purtroppo questi arrivano in qualsiasi momento appositamente sono venuti qui a fare questa discarica a proposito io qui qui vicino nella distanza 150 metri da adesso è sta passando con l'auto bianca io un terreno di piena proprietà di 2100 metri quindi io che manca sempre a pacciare qui 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 Grazie.